Puntare alla salvezza e valorizzare i giovani è questo l'obiettivo che la Versa Normanna, società retrocessa dalla Lega Pro, si è data per questo campionato di Serie D. Non a caso è stato promosso alla guida della squadra Mauro Chianese, un allenatore che ha guidato la squadra Berretti alla finale nazionale contro il Novara dopo aver allenato già le giovanili di Salernitana, Nocerina, Lecce e pure della Cavese, con cui alla guida della formazione giovanissimi nel 2009 e nel 2010 raggiunse brillanti risultati. È un ex chianese ma non è il solo, ha vestito i colori blu foncé in passato anche Felice Prevete, centrocampista che Campilongo aveva accolto a Cava come uno dei più giovani della rosa della stagione 2006-2007, quella della quasi promozione in Serie B. La Versa, che ha iniziato la stagione con due punti di penalità, ha una media età molto giovane ma non mancano pedine di esperienza. Tra i calciatori più rappresentativi spicca sicuramente domenico maggio, 15 reti per lui lo scorso anno con la polisportiva sarnese. Attenzione però anche ad altri over, tra i quali il centrocampista Domenico Franco, ex paganese, il centravanti Mustafà Jallù, arriva dalla Nuova Guinea e lo stopper Pasquale Porcaro, ex potenza. La formazione a Versana adotta un dinamico 4-3-3 e domenica al Simone Talamberti si presenterà particolarmente battagliera, come conferma ai nostri microfoni il tecnico Mauro Chianese. La nostra squadra è soprattutto giovane, noi giochiamo spesso con dei 98-97, l'età media penso sia la più bassa d'Italia, il nostro progetto è quello di valorizzare quando più bene possibile quello che l'anno scorso è stato fatto con il mio gruppo in Berretti che arriviamo alla finale Scudetto contro il Novara, poi perso a Salò e quindi valorizzare i giovani, è normale che ci sono anche degli ovari come Franco, Maggio, Prevete, Porcaro che hanno alzato l'asticella a quel canto che possa far crescere ancora di più questi giovani. Al di là che la Cavese sia in questo campionato una squadra abbastanza blasonata, al di là di quello che possano dire gli altri, perché Cava negli anni ha dimostrato di poter fare ben altri campionati, ha una tifoseria che ha cultura del tifo, quindi è sicuramente una squadra da prenderle con le dute, cautele, però non siamo una squadra dove abbiamo sempre fatto la nostra partita, al di là che si chiamasse Cavese o Regina o Siracusa, quindi l'affronteremo con la massima determinazione, dando sicuramente molta attenzione ad una squadra che ambisce a vincere questo campionato.